Avete dunque sentito questo breve servizio, effettivamente ci sono dei fiumi. Sapete cosa hanno detto gli esperti? Gli esperti hanno detto che intervenire prima costa sei volte meno di intervenire dopo. Se noi riuscissimo ad intervenire prima risparmieremmo, se l'alluvione è costata 10 miliardi, ne risparmieremmo sei. Perché dicono questo? Perché ora che sappiamo perfettamente quello che succede da Milano a Ragusa, attenzione, ora che lo sappiamo perfettamente, dobbiamo organizzarci per fare in modo che soprattutto in questi fiumi che sono facilmente ingrossabili, perché questi fiumi con tutte quelle acque poi essendo pianura vanno, bisogna fare quelle che sono chiamate le vasche di salvezza, non so, hanno un nome tecnico, ma si fanno degli enormi bacini che servono proprio quando si sa da quale parte, generalmente il fiume è sonda, per contenere le acque prima che vanno a finire da altre parti. Quindi facendo questi investimenti si otterrebbero due cose importanti, si eliminano le alluvioni e si conserva anche l'acqua per quando c'è bisogno. Questo discorso deve essere fatto anche nella zona della Sicilia, tra l'altro, ma lo sentirete fra un po' in questa intervista, che ora manderemo in onda, tra l'altro, dobbiamo anche dire che sono stati stanziati milioni e milioni e milioni di Euro, anche per la Sicilia, proprio per intervenire su quello che sono i disastri, i dissesti idrogeologici, la mancanza di acqua, acqua potabile, acqua per l'irrigazione e quindi riuscire a pensarci oggi, con qualche fondo, salvare, pulire le dighe, fare in modo che l'acqua non si butti, invasare le acque che escono dai fiumi e finire in queste vasche, in queste dighe, sarebbe la nostra salvezza. In Sicilia da qualche anno non piove più come una volta, però l'anno scorso mi ricordo che proprio come in questi giorni, ve l'ho già detto, io ero a Marzala, c'è stata acqua a signore Buonacciù, come si suol dire. Prima di continuare, quindi a questo punto parliamo di acqua, ma di acqua quella delle nostre città, parliamo di bleacque, che è ormai diventato un argomento davvero scabroso, perché stiamo arrivando in una situazione dalla quale non sembra ci sia via d'uscita, se non con delle prese di posizioni irremovibili e che chiaramente fanno molto rumore e anche molti danni. Vediamo l'intervista.